Sì, no, ascolta, il mura Luca non si andrà pure più, va, si è peggiorato. Ascolta, che coraggio mesto, eh. Dopo, sapete il discorso, eh, il discorso vi faccio io. Sì, avete dovuto fare una unge la mano. Gioca al jolly. Aspetta, aspetta, perché sta andando sull'altra via, eh, fa finta di nulla. Sì, è lecito allargarsi. Domani è su YouTube, eh. Ruchi. Sì, 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 sì. Aspetta. Allora. Ciao, tutti. Sì, vediamo se non è stato un bambino. Sì, vediamo qui. dai fagli mettilo su un barcaglione lo ricali dai ha detto che dopo la fa facilone paolo come grazie